Diminuiscono sia i redditi che le pensioni ma crescono le tasse. E' questa la fotografia del comune di Fano scattata dalla CISL che ha illustrato i dati sull'IRPEF, sull'Atari e sulla tariffa dell'acqua, la più alta delle marche. Aumenta la fascia dei redditi da 0,10 mila euro soprattutto dei pensionati. A Fano abbiamo una pensione media di 879 euro e abbiamo anche molti anziani che vivono con l'assegno sociale di 440 euro. Il comune di Fano ha l'IRPEF comunale allo 0,80 su tutti i redditi non facendo distinzione tra i redditi bassi, quindi tipo 0,10 mila o 0,15 mila euro e i redditi alti. Quindi pagano tutti lo 0,80. Possiamo fare un confronto anche con altri comuni della provincia oppure delle marche? Noi abbiamo avuto per esempio due comuni qui del territorio, Mondolfo e Coglialmetauro che hanno messo l'esenzione fino a 10 mila euro. Abbiamo il comune di Pesaro che ha una parte di esenzione fino a 9 mila euro, poi non ha lo 0,80 ma ha un'aliquota IRPEF modulata a seconda dei redditi, comune di Fossombrone. Quindi ci sono stati sindici che su questa scelta dell'IRPEF hanno messo delle risorse. Il sindaco di Fano ha proseguito Giovanelli potrebbe adottare una scelta più incisiva, ad esempio introducendo un'esenzione fino a un reddito massimo di 15-18 mila euro, perché molti lavoratori e pensionati sono al di sotto di questa fascia, anche per l'acqua. Poi dal 2018 si è registrato un aumento, una decisione presa sempre in autonomia dall'amministrazione comunale. L'acqua di Fano, assieme a Mondolfo e Monteporsi, è la più cara di tutta la regione, sia per il costo al metro cubo, sia per la determinazione delle fasce. Quindi ha delle fasce, fascia base, fascia agevolata, prima eccedenza, seconda eccedenza, con fasce di metri cubi molto bassi. Ti faccio un esempio, la prima fascia è 0,20 metri cubi, ad Ascoli Piceno la prima fascia è 0,50 metri cubi, addirittura per un nucleo con tre persone 0,75 metri cubi. Ecco, per cui è chiaro, tariffa alta e fasce basse determinano che l'acqua Fano è la più cara di tutta la provincia. E a un pensionato che ha 600 euro di pensione minima, poter risparmiare anche 20 euro sulla tariffa dell'acqua è significativo. Ma non è finita qui perché anche la tassa sui rifiuti è alta e a seguito di una delibera nazionale della Rera il Comune l'ha aumentata dal 2020 del 2,7% e Fano, ha rivelato Giovanelli, addirittura nell'assemblea dei sindaci aveva chiesto un aumento del 6%, una richiesta poi non accolta si era arrivati infatti ad una mediazione. Per fare un esempio, due persone in un appartamento di 80 metri quadri pagano 79 euro ogni quadrimestre, 4 persone, ben 118 euro. Abbiamo contestato questa scelta perché le pensioni per esempio non si sono rivalutate del 2,7% mentre la Tari si è rivalutata. Chiediamo al Comune, lo ribadiamo nuovamente, che per esempio i bandi sulla riduzione delle tariffe come quello della Tari dobbiamo trovare un meccanismo di automatismo. Questo metodo, a proseguito responsabile della CISL, consentirebbe ai pensionati e a chi non ha dimestichezza con i mezzi informatici di ottenere comunque lo sconto in fattura. In tanti infatti sono rimasti esclusi perché o non erano venuti a conoscenza o non erano riusciti a presentare la domanda. Se ciò non fosse possibile allora che si predisponga a una tariffa agevolata come già previsto in altri comuni. Nell'ultimo bando sono state messe 300.000 euro per le utenze non domestiche, 100.000 per le utenze domestiche, ma in realtà erano tutte risorse stanziate nel bando di giugno per le utenze domestiche. Quindi erano 500.000 euro per le utenze domestiche. Se fossero state erogate in maniera automatica sicuramente quei 500.000 euro sarebbero stati spesi, sarebbero giunti magari sicuramente ai redditi bassi, ai redditi medio-bassi. Pensionati, lavoratori part-time, lavoratori stagionali, persone disoccupate.